Attivare il comando per attivare la modifica pannello principale, selezionare gli oggetti e selezionarli per terminare la selezione degli oggetti, premere il tasto invio. Selezionare un punto base o emettere, impostare l'angolo di rotazione per spostare il cursore, inserire un valore numerico con la tastiera sulla linea di comando. Grazie a tutti.